Bene ragazzi, io sono Tosicida Questo è il... Oh Cristo, che cacchio succede? Benissimo Questo è il quinto episodio del Road to Commander Qua Black Ops mi va col paese, tra poco Perfetto, già accendiamo la play, è già il primo bug Allora, oggi utilizzerò l'H74U E... Scusatevi da un attimo Come al solito io queste partite le faccio di mattina Solamente che oggi rispetto al solito sono le 10.05 Mi sono svegliato tardi perché ieri sono andato a letto tardi Penso di essermi aumentato verso le 10.30 Hanno andato a vedere un film ieri sera Vabbè, so che non me ne frega niente però Allora Ero anche intenzionato di prendermi in mira stabile Perché mi pare abbastanza utile Beh intanto prima voglio prendere Gioco di prestigio pro Che devo ancora Lo ricaricare Colpire uno, ferirlo E ricaricare e ucciderlo Jungle No casuale perché jungle Già mi pare che l'abbiamo già fatta Più E' un po' Che vol'è sta roba no? Una birra Eeeh 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 Crazy Sono ancora Una nuova un po' troppo grande però Parla K Ecco E ogni volta che comincio a scrivere il nome di una classe Succede sempre Che Parte la partita Andiamo a non so cosa fare Per tutto sonno Non aspettatevi una bella partita perché Uno, non mi sento tanto in fondo Due E' mortina Per me Almeno che mi sono svegliato a quest'ora Tre Con la K ci avrei giocato l'ultima volta che l'avrò preso in mano Il 74 lui sarà stato e io l'ho giocato E' quasi metto il 5 Voglio stare un po' più stabile Perchè mi ricordo che aveva un rincuro pazzesco sta arma Non potevo rilanciarla perchè non Ecco Ah mi ha acceso il tipo con la pistoletta Ah Era la mia granata? Insomma WTF WTF Wow Mabio Anche sopra mia mamma Anche sopra mia mamma Questa imbicilli totale Ah erano due Questi erano imbicilli totali Vedo per esempio quando uno sta praticamente sopra l'altro giocatore tipo lagga Secondo me è successo quella roba lì Ma mamma Ma mamma Quanto è eso Non è nemmeno supporto Faccio qualcuno E' fatto lo scattino Perchè lui ha fatto lo scattino ma non ha mai fatto lo scattino Ah C'ho il calcio dai mi sta io è lo stesso Già non sto neanche da immaginarmi senza calcio ma Ma dai mi segna che c'è pieno di nemici non ne vedo neanche uno Oh Dice che c'è uno qua Non c'è più nessuno lì E non ha nemmeno alleati lì Oh nemico Eeeh Eeeh Due dietro e l'altro dietro è un terzo Tanto a me mi produce un quarto Tanto a me mi produce un quarto Eeeh Chia santo Ma perché con Nafa non ne faccio più neanche uno? nei primi episodi vado giù di Napalm mi uccido 3, 4 secondo colpo altri 3 adesso prendo Napalm dove vedo i puntini manco uno si sa che quasi lo cambio si metterò io avevo il contrattacco aereo spia che a me mi piacciono tutti quei bonus che gli avversari danno fastidio tipo supporto aereo uav uav nemico in arrivo è bruttissimo a parere mio o contrattacco uav quello lì è peggiore in assoluto io non so giocare senza uava fatevi di lupo nella sniper lobby che facciamo per prendermi qui il culo ogni tanto ma ammitevolmente spero si mette il contrattacco uav e quando fa qualche serie non manda quel paese quando fa qualche serie questo era per salutare lupo ciò lupo poi ma dai perché non c'è un bonus che che aumenta i danni non stava coltellano dom'era? mi dimi dom'era? no perché io voglio sapere dom'era questa era per 95 andrex che io non faccio sempre l'ultima però ho fatto la più l'ultima vabbè dai non è t2.12 mi aspettavo qualcosa di meglio bisogna in realtà comunque con questa no nubo 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 sparava la tv dai che sfiga mi pare di vivere in mezzo sono passata anche a 18 va bene dai va bene l'episodio numero 5 vai sbruca troppo l'episodio numero 5 è finito se questo è il 5 perché non mi ricordo più no no scusatemi per quello che ho detto prima questo è il sesto il 5 era quello di prima e vabbà ci vediamo al settimo episodio bella ragazzi a